Primo giorno di magistrale, mi sono iscritto come Sabrina all'università dopo tanto tempo e sono vicino all'ingresso, ho dormito dalle 2 alle 4 ore, sono abbastanza distrutto e come primo giorno già mi aspettano 7 ore della stessa materia, non so se tutte teoriche sembra di sì quindi è un bel inizio a bomba, una laurea in Digital Humanities, quindi roba moderna legata a tutto quello che stiamo facendo, anche col canale, ma dalle informazioni non sono neanche tantissime quindi le aspettative sono di un certo tipo, la realtà non so quale sarà, ma andremo a vedere e vi farò sapere più tardi dopo le mille e mille ore di lezione se le reggo tutte, se non svengo sui banchi prima del tempo A dopo Eccomi nel post lezione, post primo giorno, in realtà il giorno successivo, era ieri la lezione perché ero stanco e non c'avevo voglia di fare il video e c'è anche Sabrina, qua ciao Sabrina, ciao Ciao Che non vuole farsi riprendere perché è in brutte condizioni Come sempre Non può parlare Non è vero Io sono ancora stanco morto perché ho sulle spalle le tre ore di sonno del giorno prima E che dire, allora l'esperienza non è stata negativa, però è sempre un grosso boh perché Beh, innanzitutto dovevo fare sette ore come ho detto nell'introduzione Ed è finita che le prime tre ore mattutine ci hanno cacciato fuori Voi della magistrale di Digital Humanities fuori E ritornate alle due, grazie per avermi fatto venire lì al mattino E quindi ho avuto anche modo, incredibilmente per quel che mi riguarda, di fare attività sociali con quelli che erano fuori Quindi di conoscere i miei compagni di corso Siamo ben sei o sette Anche se in realtà poi conosceremo quelli dell'altra fase Noi siamo gli umanisti Poi ci saranno anche quelli che arrivano da lauree scientifiche Perché è un corso che mette a corpo un po' tutti quanti E sono anche riuscito a mescolarmi tra gli studenti di dieci anni più piccoli Che non mi davano l'età che avevo Non si sono forse accorti dei capelli bianchi Però la costante, insomma, è che tutti hanno un dubbio su come spiegare il corso a cui ci siamo iscritti Cioè nessuno ha una chiara idea di cosa andremo a fare Quindi questo è una cosa già positiva Abbiamo fatto la lezione nel pomeriggio Che da quattro ore è stata modificata in corso e è diventata di due Quindi siamo andati per niente praticamente Lezione introduttiva di tecnologie informatiche Per le digital humanities E anche appunto, poi ve lo devo spiegare cos'è È supercazzo È informatica, fondamentalmente è informatica Il discorso è Da qui al 2030 non si sa quali saranno le nuove professioni che nasceranno C'è sempre meno bisogno di ingegneri che siano fortemente ingegneri Meno bisogno di letterati che facciano solo i letterati Ma di figure multidisciplinari che riescano a mettere in comunicazione una figura professionale con l'altra E quindi si accorpa una delle conoscenze scientifiche a quelle umanistiche E in questo caso si tratta di un corso di informatica Quello di tecnologie per le digital humanities È informatica Perché impareremo a fare C'è già il terrore Impareremo a lavorare in HTML, Java, CSS, Python Per chi fa la magistrale E quindi informatica applicata a questo ambiente misto scientifico umanistico di comunicazione Di lavoro vista client diceva il professore Non lo so L'impatto era al solito Nel senso che uno ti parlava Il professore ti parlava che dobbiamo farci il mazzo per imparare l'informatica E poi i proiettori non funzionavano Il sito non funzionava È una solita cosa Quando vai a entrare l'università niente funziona Comunque il professore ti parlava che è bello Ti parlava che Stai già entrando nella Sono sta Meno humanities e più ingegnere No, non lo so però Va bene Il professore diceva che Scusate la franchezza Va bene, va bene E questo è quanto Quindi vi racconteremo in futuro Insomma Metteremo anche sul canale Andressa apri forse qualche vlog Sulle nostre avventure universitarie Visto che ormai da vecchi facciamo l'università E quindi vi spieghiamo com'è fare l'università da vecchi Cioè non averne voglia E farla lo stesso No ma intanto non qualche vlog Io conto di farne tanti Ne facciamo tanti Sì E poi sei tu che non ce n'hai voglia Allora Sabrina ne ha voglia Sabrina ha voglia di andare a fare tutte le lezioni Io non ne ho voglia Però tra l'altro Ma non ne ho voglia C'è la possibilità Caso vuole sempre Perché mi hanno chiamato per un lavoro Durante il primo giorno di università Ma è sempre così E quindi tutto insieme Come al solito Cerchi 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 Non trovi Poi ti scrivi Fai qualcosa che è un grosso impegno E trovi Ti chiamano È così Dovevi scriverti prima Esatto Così lavoravi prima Beh in realtà non so ancora se mi danno quel lavoro Ma ci sono delle possibilità Quindi Non è Non è tanta roba Vabbè Poche ore settimanali Però è sempre Musicoterapia Che comunque è il mio percorso Adesso che cercavi una strada alternativa Sì Adesso che cercavi una strada alternativa Arriva di nuovo quello Che dovrei fare Va bene così Va bene Ci rivediamo ai prossimi video Nuove avventure E quant'altro Devo scoprire ancora tante cose Ciao E soprattutto entusiasmo Entusiasmo C'ho sonno Ciao